Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di pensioni di maggio e di una novità che potrebbe esserci nel cedolino in arrivo tra qualche giorno. Vediamo insieme tutti i dettagli nel video che segue. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. L'altro ieri il governo ha approvato il def e si è preso amaramente che non ci sarà una riforma pensioni nel 2024. Quanto meno non ci sarà quota 41 che in molti si aspettavano. Si procederà per l'ennesimo anno con quota 103 con il 2024 che sarà praticamente la fotocopia del 2023 per le pensioni italiane. Ma in questo video concentriamoci sulle pensioni di maggio. Come abbiamo appreso da qualche settimana ormai maggio dovrebbe essere il mese fatidico per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni minime che ricordiamo ancora una volta per gli under 75 saliranno a 571 euro e per gli over 75 invece a 600 euro. Ma potrebbe esserci una brutta sorpresa nel cedolino di maggio 2023 in quanto ormai manca pochissimo. Abbiamo appreso negli scorsi mesi quanto l'inps a volte può sorprendere in negativo. Infatti è stata rilasciata la circolare numero 35 nelle scorse settimane dove veniva confermata la rivalutazione delle pensioni minime al momento le uniche a non essere rivalutate. Ma attenzione non è stato specificato quando arriverà tale aumento. Si pensava logicamente al mese di maggio ma mancando ormai pochi giorni al cedolino viene da pensare che anche in questo cedolino non sarà presente la rivalutazione delle minime. Infatti si attendeva una nuova circolare in cui l'istituto di previdenza sociale avrebbe dovuto avvisare i pensionati su quando la rivalutazione sarebbe arrivata ovvero su cherateo. Manca una settimana esatta all'arrivo del cedolino ma inps ancora tace. Questo fa pensare che probabilmente anche per il mese di maggio non ci sarà la rivalutazione sulle minime e se ne riparlerà il mese di giugno. Se ci dovessero essere novità in merito ovviamente pubblicheremo subito un video a riguardo. Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti del video. Bene e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.